legge di bilancio al ministero della salute incontro schillaci fnomceo appello alla politica più risorse per valorizzare il ruolo dei medici invisibili presentato lo spot fnomceo sul disagio della professione medica mentre in parlamento prosegue l'esame della legge di bilancio il mondo della professione medica fa sentire la propria voce per richiamare l'attenzione delle forze politiche del governo sulla necessità di affrontare con urgenza i problemi che investono il servizio sanitario nazionale a farsi carico di una situazione che rischia di diventare insostenibile per i professionisti e di ripercuotersi negativamente sulla qualità delle prestazioni per i cittadini la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri che ha promosso un approfondito confronto con le organizzazioni sindacali del settore e per trovare risposte alle istanze della professione medica si è svolto al ministero della salute il primo incontro ufficiale del ministro orazio schillaci con una delegazione della fnomceo guidata dal presidente filippo anelli è stato proprio il presidente anelli insieme al vicepresidente giovanni leoni al segretario roberto monaco e al vicepresidente della cao nazionale brunello pollifrone a rappresentare al ministro le richieste dei medici italiani chiedendo che le professioni sanitarie siano finalmente protagoniste del sistema salute in particolare anelli ha sottolineato la grave carenza di medici sia sul territorio che nelle strutture ospedaliere e ha richiamato l'attenzione del ministro schillaci sui livelli retributivi del personale medico e sanitario tra i più bassi in europa l'attuale governo porta il peso ha spiegato anelli delle difficoltà ataviche del sistema che non hanno ancora trovato una completa soluzione per questo è importante riannodare i fili e avviare un dialogo con questo obiettivo abbiamo chiesto al ministro di convocare la consulta delle professioni sanitarie e di incontrare i sindacati medici recependo anche su questo versante una grandissima disponibilità l'intento comune ha concluso è quello di salvare tutti insieme il nostro servizio sanitario nazionale al centro del colloquio anche l'educazione continua in medicina che ha sottolineato il segretario monaco deve essere rinnovata valorizzando la formazione sul campo e alleggerendola dalla burocrazia al ministro è stato chiesto perciò di convocare appena possibile la commissione e cm il ministro schillaci da parte sua si è detto fiducioso nella possibilità che le istanze dei medici e del personale sanitario possano essere recepite ma ha ricordato che le difficoltà di oggi sono il risultato di tagli e dei finanziamenti alla sanità effettuati dai passati governi fino a quando con la pandemia non si è acquisita la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia della salute pubblica in conclusione valutazioni positive sui risultati dell'incontro sia da parte del presidente anelli che del ministro schillaci è stato un incontro molto proficuo devo dire anche caratterizzato dal fatto di affrontare tematiche che sono ovviamente di grande interesse per il paese e qui la sensibilità del ministro schillaci è stata molto ampia soprattutto nei confronti della professione medica delle professioni sanitarie cambiare un sistema piano piano provando ad intervenire anche sui finanziamenti che oggi sono strettamente correlati con la crisi energetica abbiamo rappresentato al ministro la necessità di puntare sulle professioni non non è possibile continuare ad investire risorse sul servizio sanitario nazionale senza che nessuna di queste risorse possa andare ai professionisti della salute comprendiamo le difficoltà ovviamente che oggi il sistema affronta e che come dire il governo in qualche maniera ha dovuto prendere atto anche dei tempi limitati per l'elaborazione della finanziaria però resta naturalmente il disagio profondo della professione medica di non vedersi riconoscere quelle aspettative di cui tutti i professionisti oggi sanitari attendono dal governo in questo senso come dire abbiamo apprezzato molto la disponibilità del ministro a voler costruire quindi un rapporto che porti a una rivalutazione delle professioni all'interno del nostro servizio sanitario nazionale lo abbiamo sentito in parlamento e oggi stesso ce lo ha ribadito con tutta con tutta la sua forza da parte nostra c'è il sostegno a questo ministro a voler raggiungere quegli obiettivi di cui siamo fortemente convinti che possono rappresentare la svolta del servizio sanitario nazionale ossia non ad un'aziendalizzazione così aggressiva sia invece un servizio sanitario nazionale che metta al primo posto i bisogni della salute dei cittadini e gli obiettivi di salute su questo come dire c'è ampia convergenza ci sarà il tempo per lavorare insieme ma anche per rappresentare insieme con i sindacati con le altre professioni sanitarie tutta l'esigenza della nostra categoria e dei professionisti di chiedere maggiore attenzione maggiore valorizzazione del nostro ruolo nel servizio sanitario nazionale credo che l'incontro con i vertici della form ceo sia stato di utilità per entrambi c'è stato un proficuo scambio di idee di proposte e spero che con un'ottica di medio lungo termine per questo governo le istanze portate giustamente avanti da questi colleghi possano essere recepite una conferenza stampa prima dell'incontro col ministro schillaci per chiedere alla politica di sostenere il servizio sanitario nazionale con più risorse e più personale e per garantire la salute di tutti è stato questo il senso dell'incontro che si è svolto nella sede della fnomceo a roma con giornalisti sindacalisti ed esperti del settore sanitario per presentare lo spot invisibili un'iniziativa promossa dal presidente della fnomceo filippo anelli che ha consentito di raccogliere le indicazioni dei diversi comparti della professione medica in vista degli appuntamenti istituzionali nei quali rivendicare l'attuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema sanitario valorizzando il ruolo dei professionisti della salute delusi per la mancanza di riconoscimenti sempre più medici lasciano il sistema sanitario nazionale perché questa professione sta perdendo attrattività ha spiegato il presidente anelli anche a causa dei carichi di lavoro di un aumento del burnout e una retribuzione tra le più basse in europa eppure senza medici senza professionisti sanitari non può esserci un efficiente servizio sanitario nazionale è questo l'invito che rivolgiamo al governo investiamo sui professionisti mettiamo più risorse diamo loro più peso nelle decisioni e nella gestione della sanità solo così potremo conservare il nostro servizio sanitario nazionale un disagio denunciato con forza nel corso della conferenza stampa anche dal segretario generale della finge silvestro scotti del sumai assoprof antonio magi e dell'ana a o assomed pierino de silverio beh la legge di bilancio è il momento focale per comprendere questo paese che cosa programma per la salute dei cittadini e che cosa programma per la salute territoriale in questo momento nella legge di bilancio non c'è assolutamente nulla per quello che riguarda la medicina generale noi richiediamo innanzitutto che venga parificata la condizione dei medici convenzionati a quella dei medici dipendenti rispetto all'unatantum che è stata prevista relativamente al 2023 è la seconda volta che si fa un momento di bilancio nel quale viene cassata da una manina probabilmente del mef il passaggio che riconosceva ai medici convenzionati gli stessi diritti economici dei medici dipendenti e della pubblica amministrazione noi se siamo assimilati al pubblico impiego ne ricaviamo le responsabilità rispetto alla corte dei conti per la proprietà economica e per altri motivi contrattuali dobbiamo assolutamente essere equiparati anche sul piano economico perché oltretutto noi lamentiamo anche rispetto agli aiuti che sono determinati in altri capitoli di bilancio della finanziaria dei decreti cosiddetti aiuti la assoluta assenza della considerazione rispetto a quello che siamo un medico di famiglia non è solo un professionista intellettuale che eroga un servizio per i suoi pazienti rispetto al servizio sanitario nazionale ma è anche un'impresa a collaboratori suoi dipendenti ai quali abbiamo corrisposto gli aiuti previsti dal governo nei 200 e 150 euro anticipandoli noi per poi sottrarli dai versamenti successivi non riusciamo a capire perché rispetto a tutti i provvedimenti che vanno ad aiutare le imprese alle quali l'europa in quanto possessori di partita iva ci allinea noi non riceviamo aiuti nonostante noi non abbiamo possibilità di variazione di parcella o dei nostri margini il nostro margine rimane fisso in un contratto che oltretutto è bloccato dal 2000 al 2019 perché ancora non abbiamo siamo riusciti ad ottenere l'atto di indirizzo per il 19 21 e dall'altra parte non riceviamo nemmeno gli aiuti che permetterebbero in qualche modo ai medici di assorbire l'aumento dei costi che oltretutto per medici che sono vicini alla pensione che quindi fanno il calcolo di come gli stanno aumentando i costi delle materie prime e per medici giovani che invece devono entrare in questo sistema e vedono l'impatto immediato dell'investimento di costi stanno diventando i motivi o per non entrare o per andarsene prima in pensione determinando l'ulteriore aggravamento di quella che è una condizione che già il paese non può più reggere perché nel giro di pochi anni più di 15 milioni di italiani saranno senza medico di famiglia. Iniziamo innanzitutto col pensare che c'è una legge di bilancio che purtroppo non parla di professionisti, non parla di risorse dedicate ai professionisti, in particolar modo ai medici e ovviamente senza medici non possiamo pensare di fare un servizio sanitario nazionale, di avere un servizio sanitario nazionale e di avere comunque una sanità. Ecco questa è una delle problematiche nella legge di bilancio che c'è. Quello che riteniamo sia indispensabile è dare almeno un segnale ai medici perché noi viviamo un momento di grave disagio della professione. Un disagio che a differenza di altre volte non viene incanalato da organizzazioni sindacali o da situazioni particolari, ma il medico ha un disagio spontaneo quindi anche se non incalanati, non organizzati in ambito sindacale tutti i medici si stanno comportando nello stesso modo, cioè vanno a protestare in che modo? Dimettendosi, andando prima in pensione o andando a lavorare all'estero. Quindi questo è un segnale molto forte perché è un segnale che parta dalla base e la politica su questo deve fare molta attenzione perché a breve potremo avere grossi problemi di garantire il servizio sanitario e la sanità in questo Paese. Quindi almeno un'attenzione all'arco di quello che è la finanziaria, quindi il bilancio cominciando anche magari eventualmente a portare risorse economiche da bene ai servizi in ambito strutturale perché è sempre lo Stato che paga i gettonisti ad esempio, quindi se lo portiamo da bene ai servizi e paghiamo quotidianamente in maniera analoga ai gettonisti, chi per esempio lavora al pronto soccorso o chi lavora in determinate strutture, questo potrebbe essere già un primo segnale molto importante. L'altro segnale è quello che in mancanza di risorse potrebbe essere anche possibile magari eliminare quelle che sono le incompatibilità oggi attuali perché le incompatibilità per mantenerle il Paese dovrebbe avere la capacità di poter retribuire i professionisti che devono lavorare esclusivamente per il servizio sanitario nazionale. Non avendo delle risorse disponibili se eliminassimo le incompatibilità, finite le 38 ore chiaramente di servizio nel servizio sanitario nazionale, lasciare i libri, i medici poter fare la loro attività libero professionale dove vogliono ad esempio, in modo tale da andare a coprire quelle che sono le carenze oggi di una remunerazione che è tra le più basse d'Europa. Un segnale di dignità al professionista, una flat tax solo per il privato non ha senso perché allontana ancora di più il professionista dal sistema pubblico, estendere la flat tax anche ai dipendenti, agire sul sistema di formazione perché dopo due anni e mezzo di pandemia in cui abbiamo fatto formazione sul campo è inammissibile essere sottoposti al ricatto della carenza e dell'assenza di assicurazione nel momento in cui non dovessimo raggiungere i crediti formativi previsti. In ultimo, sediamoci ad un tavolo, inventiamoci, realizziamo un nuovo modello organizzativo perché questo modello non porta lontano. Apportare il suo contributo in base ai dati raccolti dalla Fondazione Gimbe anche il presidente Nino Cartabellotta. In questo momento sarebbe necessario uno sforzo quantitativo in più in termini di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale e fare in modo che una parte di questo venga vincolato per il personale sanitario. Il rilancio delle politiche del personale sanitario rappresenta una priorità assoluta perché la colonna portante della sanità pubblica è proprio rappresentata da quei professionisti che nel momento più difficile della storia del servizio sanitario abbiamo chiamato eroi a che adesso hanno bisogno di essere adeguatamente ricompensati. Un medico bardato con tuta e dispositivi di protezione anti-covid che lentamente si spoglia. A mano a mano che gli indumenti cadono sul pavimento la figura scompare e ci si rende conto che il medico diventa invisibile. Fare il medico oggi. Fondi tagliati. Strutture antiquate. Assunzioni bloccate. Ma la cosa peggiore è che questa situazione non la vuole vedere nessuno. Per la politica noi medici siamo invisibili. Restituiamo ruolo e visibilità ai nostri medici. Sosteniamo il servizio sanitario con più risorse, più personale per garantire la salute di tutti. È questo il contenuto dello spot realizzato dalla FNOMCEO per denunciare il disagio della professione medica. Si tratta di una campagna di grande impatto che punta sulla metafora dell'invisibilità per sottolineare i molti problemi del servizio sanitario nazionale a lungo ignorati dalla politica. Fondi tagliati, strutture antiquate, assunzioni bloccate, carenze di personale oltre che aggressioni fisiche e verbali. Ma la campagna FNOMCEO non si limita alla denuncia. Vuole andare oltre, dato che nonostante le difficoltà i medici non abbandonano i propri pazienti. I cittadini lo sanno che quando serve un medico può salvarti la vita, recita lo spot, che poi invita a restituire un ruolo e visibilità ai nostri medici. Fare il medico oggi? Fondi tagliati, strutture antiquate, assunzioni bloccate. In Italia mancano migliaia di medici e quelli che ci sono fanno milioni di ore di lavoro in più, non retribuite. tanti vorrebbero scappare via o cambiare mestiere. C'è addirittura chi è morto, lavorando senza sosta per giorni. Perché? Perché un medico non abbandona mai i suoi pazienti. Ma la cosa peggiore è che questa situazione non la vuole vedere nessuno. Per la politica noi medici siamo invisibili. I cittadini lo sanno che quando serve un medico può salvarti la vita. Restituiamo ruolo e visibilità ai nostri medici. Sosteniamo il servizio sanitario, con più risorse, più personale, per garantire la salute di tutti.